Forfora! Lo sapete che in autunno è più frequente perché la nostra cute arriva da un'estate che la stressata e la flora batterica è compromessa, come nel caso della nostra modella. Le cause possono essere anche stress, stanchezza o squilibrio delle funzioni del cuoio capelluto, ma a volte è semplicemente il cambio di stagione. Vediamo come risolvere questa problematica con i prodotti Soothing Relief della linea Naturica. Stiamo parlando di shampoo e trattamento antiforfora, entrambi 100% vegan. Ora vi svelo il loro utilizzo. Andiamo a lavaggio. Dopo avere inumidito i capelli, applichiamo il nostro shampoo. Andiamo qualche goccia. Attiviamo il prodotto e l'applichiamo sulla coda. Ricordatevi che questo shampoo rinfresca, decongestiona, allevia prurriti e fastidi e inibisce la formazione della forfora. Dopo averlo sciaccato, applichiamo il nostro Soothing Relief Treatment su tutta la capigliatura, ricordatevi, a capello umido. Prendiamo qualche goccia e lavoriamo nella zona, soprattutto quella superiore. Se abbiamo bisogno, prendiamo un pettine e dividiamo. Lavoriamo con movimenti circolari, meno intensi se forfora grassa. Più intensi invece ci troviamo con della forfora secca. Questo è il risultato. Grazie a questo prodotto, con il 98% di ingredienti di origine naturale, la cute sarà allenita, purificata, riequilibrata e i capelli saranno morbidi, lucenti e sedosi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.